Spettabile Telepavia, Milano Pavia TV. Vorrei segnalare che non solo nella metropoli Milano, come riferito dal vostro notiziario del 7 aprile, vi sono occupazioni abusive. Purtroppo devo segnalare che vi sono veri e propri sciacalli che sfruttano una situazione di tremenda emergenza che stiamo subendo per commettere reati, ben sapendo che chi dovrebbe intervenire o non può proprio, oppure cerca mille motivazioni per non farlo. Comincia così la mela di un nostro telespettatore che descrive con accuratezza e dovizia di particolare un caso di occupazione abusiva di un alloggio popolare a Vigevano. Per ovvie ragioni di riservatezza omettiamo di indicare in quale dei tanti quartieri di case popolari della città questa situazione stia avvenendo, anche perché purtroppo questa occupazione abusiva che si sta mettendo in atto sarebbe accompagnata da minacce nei confronti di altri residenti volte a creare una generale omertà. Il nostro telespettatore avrebbe già informato dei fatti Alerpa via Lodi che però avrebbe spiegato di non poter intervenire se non a emergenza sanitaria conclusa, come del resto avvenuto a Milano con poche eccezioni. Anche a Vigevano insomma gente senza scrupoli approfitta della pandemia per cercare copertura per atti illegali nella consapevolezza che per le autorità preposte è più difficile porre rimedio immediato. Se non si interviene ora, conclude il nostro telespettatore si scivolerà in una situazione ben peggiore di quanto ci si possa immaginare.